Tutti i manichini USB-R lattante, poi ci sono gli adulti, questo è il primo, ce ne sono altri di là, adesso stiamo procedendo con i giochi di ruolo, il roleplay. Questa è la segreteria del corso istruttori, come si vede è una segreteria piuttosto complessa, questo è il nostro luogo dove stiamo formando tutte le persone, la sala venica, e questo è quello che stiamo facendo. Questo è un corso istruttori per sanitari, medici, infermieri provenienti da più di sei regioni diverse, si stanno formando per poi fare la parte ultima del monitoraggio ed aprire il proprio sito di formazione e accreditarsi poi al 118 per lavorare rilasciando certificazioni internazionali dell'American Heart Association, diciamo in due parole, di differente, qualità elevata che non permette di utilizzare manichini se non quelli digitali collegati e questo ovviamente è un'altra cosa. è l'American Heart Association e 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 l'American Heart Association